Grazie. Grazie a tutti. 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 Voglio proprio vedere come va a finire questa cosa, perché queste cose a Torino non si fanno, va bene? Queste cose a Torino non si fanno, cara signora. Freud mi guardò come divertito. Grazie a tutti. La mamma di cui Sissi voleva ancora la pietà per la stanchezza che sentivo e che mi faceva cascare a pezzi. Avete volete... Avete voluto il sociodrama? Ve lo hanno dato? E' vero... E' vero... E' vero... E' vero...